Carambola tra auto questa mattina in via De Amicis, coinvolte nel sinistro un'Opel Astra condotta da un 66enne e una Citroen C3 con a bordo un 48enne. A chiarire le dinamiche dell'incidente, che ha destato molta preoccupazione e curiosità tra i passanti, sarà la polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Le due macchine provenivano da sensi opposti di marcia quando, per cause da accertare, è avvenuto il violento impatto che ha coinvolto anche una terza auto, una Fiat Panda, posteggiata lungo la via. Fortunatamente è illeso il conducente di quest'ultima macchina che si stava prestando a salire in auto. A causa dell'impatto, la Citroen si è scantata contro un muro di cinta all'altezza del civico 69, posizionandosi orizzontalmente. Entrambi i conducenti delle due auto, lievemente feriti, sono stati condotti dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia per gli accertamenti medici, mentre il tratto stradale è stato chiuso al transito veicolare per consentire le operazioni di rilievo e al carroattrezzi di rimuovere i mezzi.